Amici sportivi e del mondo del basket, un saluto da coach Dan Peterson. Parlo oggi con voi del coronavirus, ma non con un messaggio negativo, almeno spero, un messaggio positivo, come affrontarlo ognuno di noi. Io lo paragono come quando io facevo allenatore e la mia squadra doveva fare una rimonta. Io dico che ci sono quattro fasi in una rimonta. Prima il recupero, da meno 15 a meno 3. Poi il pareggio, da meno 3 a 0. Poi il sorpasso, da 0 a più 3. Poi la chiusura, la vittoria. Da più 3 a più 10, un minuto dalla fine, mamma butta la pasta. Io dico che con il coronavirus siamo proprio nella prima fase ancora, il recupero. Stiamo cercando di mettere a posto i numeri, meno contagiati, meno decessi. Poi dopo ci sarà la fase del pareggio, dove veramente mettiamo i numeri a posto. Anche quella fase richiederà un grandissimo sforzo, addirittura quello di sorpasso e non parliamo della chiusura. Quindi non festeggiare troppo presto, sapere che è una partita lunga e dura, ma che se uno ha una tabella di marcia in mente può anche farcela. Amici sportivi, un grande saluto e un grande abbraccio a tutti da coach Dan Peters.